Oggi presentazione del sollevatore di Megaiotti interamente realizzato a Brindisi e diretto a Genova. Un evento importante per la città ma anche per la Scandiuzzi? Sicuramente sì, un evento che sicuramente oggi 23 luglio, un evento che sicuramente Brindisi ricorderà come la presentazione di una grande opera che un'azienda brindisina ha realizzato all'interno del porto di Brindisi. Porto di Brindisi che ha delle potenzialità immense che sicuramente sono invidiati da tutti i porti d'Italia. È un porto naturale che ci consente comunque sia di far arrivare qualsiasi natante e quindi di conseguenza possiamo trasportare qualsiasi struttura. Quella che vediamo è una struttura di 900 tonnellate, un peso importante, che di lunghezza possiamo paragonarle con un campo di calcio che si sposta da Brindisi a Genova e unisce i due mari da Brindisi a Genova. Tutto made in Italy, io sono il responsabile della commessa. La strategia nostra è quella di ringraziare anche tutti i nostri fornitori locali che hanno lavorato per noi e che ci hanno consentito di fare l'opera importante che renderà il barco il 14, partirà da Brindisi il 14 agosto. Possiamo dire che la Scandiuzzi è un'azienda in grande crescita? Certamente sì, è un'azienda che vede su Brindisi, vede per quelle che sono comunque sia le potenzialità infrastrutturali che noi abbiamo e anche possiamo dire delle maestranze, delle maestranze che oggi ancora considerando la crisi che ormai attanaglia da dieci anni ancora resistono queste maestranze saldatori, carpentieri, montatori che hanno fatto da padrone negli anni passati nella metalmeccanica Brindisi. Progetti per futuri? Certamente sì, progetti sul futuro è quello di mantenere l'area portuale e poterla riempire con altri manufatti più grandi di questi. Questo è l'augurio.